L'ordine del giorno rega l'audizione informale del Direttore generale per la motorizzazione, i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Ingegnere Pasquale Danzi, e del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, Ingegnere Vito Di Santo. Nell'ambito dell'esame il disegno e legge raccanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada e le abbinate proposte in legge. Avverto che l'audizione in assenza di obiezioni da parte degli auditi sarà trasmessa in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ringrazio gli intervenuti per aver risposto all'invito della Commissione e gli ricordo che l'intervento di ciascun udito dovrà essere contenuto in un tempo massimo di 10 minuti. Prego Ingegnere Danzi. Buongiorno Presidente, buongiorno ai componenti della Commissione che mi fa piacere di rincontrare e di rivedere anche se da lontano in questa occasione. La Direzione generale della motorizzazione cercherò di essere breve e di non utilizzare nemmeno i 10 minuti che gentilmente mi ha concesso Presidente perché in questa circostanza in merito al disegno di legge di sicurezza stradale e delega al codice della strada vede la Direzione generale della motorizzazione in una funzione prettamente ausiliaria come è evidente anche dal titolo del disegno di legge stesso per l'efficace attivazione delle misure più che come driver effettivo delle misure stesse. In particolare ci sono tre punti del disegno di legge su cui vorrei un attimo dare alcune informazioni che competono alle funzioni della Direzione generale che dirigo che sono in particolare le misure legate all'alcol lock e quindi alla guida in stato di ebrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, la misura della sospensione breve della patente e la misura del contrassegno per i monopattini elettrici. Per quanto riguarda la prima, l'alcol lock, correttamente il disegno di legge fa riferimento alla necessità dell'adozione entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma di un decreto ministeriale che di fatto poi costituisce una regola tecnica che andrà notificata alla Commissione europea per la definizione del sistema di blocco, delle modalità di installazione del sistema di blocco sulle autovetture e il funzionamento del sistema di blocco al colloc, nonché le officine che avranno la possibilità di installare questo sistema. Quindi questo è un ambito del disegno di legge per quanto successivo all'adozione della misura e della norma che vedrà coinvolta la motorizzazione. Altro aspetto, come dicevo, di interesse della motorizzazione è anche quella della sospensione breve, non tanto per la cosa in sé che evidentemente ha natura di carattere prettamente sanzionatorio e legato alla circolazione stradale, ma per il fatto che dirimente per l'attuazione della sospensione breve e per la durata della sospensione breve il punteggio della patente che risulta in quel momento, cioè al momento della violazione, in capo al titolare che ha contravvenuto alle norme del codice. Su questo aspetto c'è semplicemente una segnalazione che impone l'obbligo di tempestività dell'aggiornamento del punteggio patente da parte delle forze dell'ordine o comunque dell'organo accertatore della violazione, che come ben noto ha l'onere, una volta definita la sanzione amministrativa accessoria della deportazione del punteggio, ha l'onere di entrare sul sistema di motorizzazione che è l'archivio nazionale dei punteggi patente per aggiornare il punteggio che corrisponde alla patente di ciascun conducente. Quindi qui è semplicemente un warning che per la piena efficacia della misura, perché la misura possa effettivamente attingere i risultati che si prefigge, è essenziale che ci sia una notevole tempestività da parte degli agenti accertatori nell'aggiornamento del punteggio. Quanto più il punteggio è aggiornato, evidentemente tanto più la norma coglie nel segno. Terzo ed ultimo punto che coinvolge le competenze di motorizzazione è il contrassegno dei monopattini. Su quest'ambito è previsto ancora una volta una regola tecnica, ovvero un decreto che aggiorni le caratteristiche tecniche dei monopattini e immediatamente a seguire un decreto del ministro delle infrastrutture dei trasporti di concerto con il MEF, con il ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione, come accade per ogni tipo di targa, anche se questi contrassegni sono semplificati rispetto alle targhe, ma sono a tutti gli effetti degli identificativi univoci di veicolo associati al responsabile della circolazione, con definizione del prezzo di vendita del contrassegno adesivo nonché dei meccanismi di distribuzione e vendita dei contrassegni, con modalità che saranno evidentemente analoghe a quelle che vengono utilizzate per la targatura dei ciclomotori piuttosto che delle autovetture. La norma stabilisce che a stampare il contrassegno secondo la sequenza affanumerica disposta dalla direzione della motorizzazione sarà l'IPZS, cioè l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che poi con i consueti meccanismi trasferirà i lotti di contrassegni agli uffici della motorizzazione che a loro volta li trasferiranno presumibilmente agli studi di consulenza automobilistica a cui competerà l'onere di interfacciarsi con il cittadino che si dichiara proprietario di un monopattino. Teniamo in considerazione che non si tratta di veicoli omologati, quindi la responsabilità della circolazione compete solo ed esclusivamente al titolare del contrassegno. Questa è una cosa che in qualche modo ci pone in una situazione differente rispetto a quella che viviamo con i ciclomotori piuttosto che con le autovetture e gli altri veicoli, in quanto non è previsto né indispensabile che il titolare del contrassegno sia titolare di una patente. È evidente che nel momento in cui il contrassegno diventa un elemento cardine per poter combinare sanzioni per violazioni delle regole del codice della strada è indispensabile che si abbia contezza dell'indirizzo di residenza del titolare del contrassegno. Per quanto riguarda evidentemente gli iscritti all'ANG, cioè all'anagrafe nazionale dei titolari di patente di guida è la motorizzazione che è il punto di riferimento per intercettare quale sia l'indirizzo di residenza al quale far pervenire la sanzione combinata per violazione del codice. Nel momento in cui invece si trattasse di un titolare di contrassegno che non abbia una patente chiaramente non è contenuto nei database di motorizzazione, il suo indirizzo di residenza e bisognerà puntare sulla NPR, quindi l'anagrafe nazionale della popolazione residente ormai disponibile che sarà in condizioni, dato il nominativo del responsabile della circolazione, che sarà in condizione di fornire alle forze dell'ordine l'indirizzo di residenza del titolare del contrassegno. Questo è più o meno quanto in termini di coinvolgimento della direzione generale della motorizzazione sulla parte dispositiva del disegno di legge. Sulla parte invece di delega per il codice è evidentemente molto ampia con dei criteri assolutamente condivisibili di semplificazione e delegificazione che riusciranno a dare a tutti noi un codice più snello e più maneggevole anche in termini di modalità per apportare delle modifiche per la normativa sovranazionale intervenuta. Probabilmente cade bene in termini di periodo, almeno per quanto riguarda i conducenti, perché, come probabilmente la Commissione ben saprà, è in corso di definizione in sede comunitaria la nuova direttiva patenti e quindi è probabile che già il codice, già la nascita, sarà già costruito in maniera da essere perfettamente compliant con le nuove norme comunitarie in materia di abilitazione e la guida dei conducenti. Vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione evidentemente su questi aspetti per rispondere a eventuali necessità. Grazie ingegnere, sicuramente ci saranno tante domande, visto l'importanza dell'argomento passiamo la parola all'ingegner Di Santo, prego. Grazie Presidente a tutti i componenti, vi ringrazio per questa opportunità che ci date di essere qui a disposizione per poter chiarire gli eventuali dubbi che sorgono della lettura del testo. Io non vi voglio tediare con l'elencazione dei contenuti del testo perché in effetti quello che residua rispetto alla direzione generale per la motorizzazione, in particolare per quanto ci concerne, è l'aspetto della circolazione, quindi l'accertamento delle violazioni, la revisione, la messa a punto di alcune modifiche al codice della strada sulla parte della ciclabilità, l'introduzione di un dispositivo chiamato Safety Car che è praticamente un ausilio al posizionamento e all'aiuto nella costruzione dei cantieri che ci sono lungo le autostrade dove questa auto con questo pannello regolamentato sull'auto conduce alle restringimenti della carreggiata dove ovviamente talvolta la segnaletica non è così evidente soprattutto coloro che magari utilizzano velocità non propria. Abbiamo inserito alcune regole di innovazione sulla segnaletica dei passaggi a livello ma niente di particolare diciamo erano parecchi anni che era necessario di mettere un po' d'ordine e poi infine la qualcosina sulla tarifazione della sosta che diciamo un po' marginale ma la cosa più importante che volevo dire è questa, cioè il disegno di legge in particolare alla riduzione è improntato alla riduzione dei morti e feriti. Come voi sapete abbiamo un piano nazionale della sicurezza stradale che prevede per il 2030 bisogna ridurre del 50% l'incidentalità. È chiaro che in questo frangente purtroppo dati alla mano recenti, so che c'è stata anche un'azione con l'Istat che è il detentore dei dati formalizzati, ufficiali, purtroppo siamo rimasti praticamente a dati non cambiati rispetto al 2019. Quindi è stato costruito questo piano nazionale che ha proprio l'intenzione e la volontà precisa di portare avanti questa riduzione. Il piano nazionale si compone di cinque pilastri importanti ma vi cito uno per tutti è la categoria maggior rischio, l'utenza debole, quindi è improntato soprattutto verso questi utenti perché sono dati abbastanza importanti che voi avrete sentito e purtroppo non c'è un netto miglioramento, anzi direi che siamo ritornati ai livelli vicini a quelli del 2019. Ci sono delle particolarità dove ci sono alcune riduzioni e alcuni aumenti. Vi cito per esempio una riduzione importante sulla parte dei ciclisti. Probabilmente altre associazioni vi avranno anche già dimostrato che questo abbattimento per l'utenza debole pedoni e ciclisti è dovuta particolarmente per i ciclisti alla costruzione di molte piste ciclabie, corsie ciclabie che hanno ovviamente determinato una riduzione importante. Purtroppo però nella media dei decessi il raggiungimento del 50% è un po' lontano. Quindi l'intenzione del DDL è molto improntato sull'aspetto sanzionatorio che ben sapete che è stato elaborato con il Ministero dell'Interno per loro specifica competenza ovviamente su alcune materie di sanzioni e ha l'obiettivo di andare verso il 50%. Forse è solo l'inizio. Noi ovviamente facciamo qualcosa di più. Il piano nazionale è un piano ampio fino al 2030. È previsto però nell'ambito del piano nazionale cinque programmi di attuazione. Cioè attuazione significa fare concretamente delle azioni che servono proprio a mettere sul territorio anche un flusso finanziario e economico. Non sono tantissimi soldi di cui disponiamo però sono delle azioni che abbiamo pensato e mirato. Questo primo programma di attuazione sarà portato al CICAS che è un comitato interministeriale sulla sicurezza stradale presieduto dal Ministro Salvini che prevede come primo programma di attuazione circa 30 milioni di investimenti. Ma vi dico tra i più importanti c'è una campagna di comunicazione abbastanza rilevante. Acquisto di strumentazione per il controllo dell'alcol e della velocità per polizia e carabinieri. È un importante riparto di circa 14 milioni per i 14 grandi comuni dato rilevato Istat per interventi di sicurezza sui pedoni. Quindi laddove abbiamo visto questo importante fenomeno abbiamo cercato di intervenire dando ai comuni, ma questo ovviamente non è solo una sperimentazione, con il finanziamento cercheremo di avere spero dei prodotti diciamo importanti, perché i comuni sanno bene dove sono, dove accadono, dove viene evidenziato un'incidentalità particolare e quindi hanno con questi fondi la possibilità di intervenire. Queste sono le cose più importanti del primo programma. Ci sono altre cose, la progettazione e realizzazione di una struttura, un sistema informativo dell'osservatorio nazionale della sicurezza stradale. Cioè noi intendiamo mettere su una piattaforma dalla quale, avendo i dati dell'Istat, delle polizie, di incidentalità e di tutti gli altri fattori che deriveranno dai comuni, di avere una visione completa e con la quale sarà possibile intervenire anche in punti specifici dei vari fenomeni, che sia la velocità, che sia l'attraversamento, che sia la curva pericolosa. Cioè cercheremo di avere una macro, un macro osservatorio da quale poter vincere i punti salienti dove intervenire e con urgenza, perché il 50% al 2030 è purtroppo un lavoro importante che ci impegna tantissimo. Io sono a disposizione per qualsiasi chiarimento volessero formi. Vi ringrazio. Grazie ingegnere. Passiamo agli interventi dei deputati. Si è già pronostata la collega Russo e poi accolgo le altre richieste. Grazie Presidente. Ovviamente ringrazio gli auditi. Avevo una domanda molto tecnica. Ho ascoltato ovviamente con attenzione l'esposizione degli auditi. Mi riferisco in particolar modo al Dottor Danzi per quanto riguarda la sospensione breve, perché è una delle cose su cui mi arrabatto e che non mi fa dormire, quindi ho necessità di confrontarmi. Allora, il mio timore, lo dico con molta chiarezza, è se c'è un modo molto più chiaro e veloce che io in questo momento non riesco a cogliere per rendere certa la quantificazione dello stato dei punti dei trasgressori in strada. Faccio un breve riassunto. Se l'ente accertatore durante, quando trova appunto il trasgressore, deve verificare lo stato dei punti, è chiaro che si presuppone un'accelerità nell'accreditamento, nella situazione comunque del conducente, che renda granitica e certa la sanzione che poi si va a combinare. Tanto più se sotto i 20 e addirittura sotto i 10 vi è poi appunto prevista la sospensione breve. Ora, perché ho toccato un po' con mano, io so per certo che molto spesso l'aggiornamento dell'estratto dei punti anche sul portale dell'automobilista non è tale, a volte in modo giustificato, perché io ho la possibilità, anche per una decurtazione di punti normali, di contestare il verbale di polizia stradale e quindi impugnarlo e questo fa sì che la decurtazione non avvenga in istantanea ma avvenga a termine ovviamente del procedimento giudiziario e quindi con la sentenza emessa da giudice di pace. Altre volte purtroppo avviene in modo tardivo da parte di chi accerta la trasgressione per tutta una serie di problemi, carenza di organico e quant'altro. In questo però sta un po' la falla di quell'esigenza alla base di questo novello articolo 3, quindi della sospensione breve. Allora io mi sforzo di capire come si può intervenire, lo dico con estrema trasparenza, quindi senza fare una bandiera politica, nulla ossa alle sospensioni breve che evidentemente hanno una finalità anche corretta, ma si presuppone alla base un sistema che io oggi faccio fatica a poter vedere come reale, mi sforzo di capire, quindi anche il CED come possa essere così puntuale e aggiornato, posto che già oggi per quanto riguarda la decurtazione dei punti che portano alla revisione tecnica delle patenti per azzeramento, così non è. Questa è la mia domanda. Grazie. Grazie. Collega Macanti. Grazie Presidente. Anche da parte mia un ringraziamento al Dottor Danzi e un ringraziamento al Dottor Di Santo. Qualche domanda per entrambi. Intanto anche per noi Dottor Danzi è un piacere rivederla in Commissione dopo l'approvazione delle risoluzioni e credo, come lei sa, che questo tema, il tema cioè della cronica carenza di personale, tra l'altro le chiederei se è possibile poi avere presso la Commissione un aggiornamento magari ulteriore rispetto ai tempi d'attesa che risultano essere probabilmente anche diminuiti sia per quel che riguarda le patenti che anche per quel che riguarda le revisioni. È chiaro che questo è un tema, come lei sa, caro alla Commissione, è un tema caro a molti deputati e io credo che o nell'ambito della legge delega o nell'ambito del DDL probabilmente qualche emendamento arriverà anche perché i giusti tempi d'attesa per quel che riguarda soprattutto le revisioni e alcune dinamiche per quello che riguardano le patenti rientrano a pieno titolo nella sicurezza stradale perché se i tempi di attesa delle revisioni sono lunghi e sulle nostre strade viaggiano veicoli non revisionati è evidente che c'è, come dire, un pericolo. Quindi da questo punto di vista le chiedo, lei ha avanzato, avrebbe qualche proposta, insomma, che sicuramente avrebbe avanzato in sede di, come dire, formulazione del disegno di legge, ma avrebbe eventualmente qualche proposta migliorativa del disegno di legge proprio in riferimento ai tempi di attesa e in riferimento, come dire, a qualche modifica rispetto alla motorizzazione? E questa è la domanda per lei. Invece, di particolare interesse, per quanto riguarda il dottor Di Vito, lei ci ha raccontato, ci ha, insomma, anticipato questo potenziamento, immagino io, dell'osservatorio. Mi pare che questa sia una richiesta molto forte che, in audizione, è arrivata dalle associazioni vittime della strada che chiedevano, oltre al resto, il potenziamento di un osservatorio nazionale e, ovviamente, la possibilità che all'interno di questo osservatorio ci sia uno spazio, diciamo, per la loro esperienza e per la loro progettualità. Quindi anche per lei volevo capire, diciamo, se si tratta di un potenziamento o di un nuovo istituto e se, a suo modo di vedere o se c'è già, era possibile prevedere il forte coinvolgimento delle associazioni vittime della strada. Grazie a entrambi, ovviamente, per l'impegno e buon lavoro. Grazie, collega Casu. Grazie, Presidente. Io, nel ringraziare anche a nome del gruppo del Partito Democratico, il Direttore Generale Danzi e il Direttore Generale Di Santo per il contributo e associandomi alla richiesta della relatrice Maccanti, delle colleghe e dei colleghi, di poter ricevere poi anche in termini puntuali, quelle che sono anche delle proposte di possibili emendamenti migliorativi nel percorso che stiamo facendo, sui temi che si sono affrontati, anche frutto di quell'esperienza quotidiana che voi avete, non solo delle norme per come sono scritte, ma anche delle norme per come poi si applicano nella realtà quotidiana. Condivido, diciamo, alcune preoccupazioni e chiedo una domanda più specifica. La domanda più specifica è, diciamo, nei confronti proprio del Direttore Di Santo come Direzione Generale per la Sicurezza e l'autotrasporto. Sicuramente il tema dell'osservatorio è un tema fondamentale. Scusi, si sente a tratti, l'audio è molto disturbato. Il tema sicuramente fondamentale della condivisione dell'osservatorio, della partecipazione di quelle esperienze che spesso da una tragedia personale però costruiscono poi proposte per migliorare la vita di tutta la collettività è fondamentale perché ci consentirebbe, diciamo, di fare un lavoro molto più accurato per cercare poi di tradurre in concretezza quelle che sono le proposte. Però da un punto specifico io volevo affrontare perché ce ne siamo occupati, c'è anche una proposta che abbiamo correlato al Codice della Strada e su questo volevo capire il punto di vista puntuale anche nel tentativo poi di costruire un percorso vendativo il più condiviso possibile. Ed è il tema degli angoli ciechi, dei tir e dei mezzi pesanti. Noi abbiamo la necessità, a mio avviso assoluta, di segnalare la presenza di persone fragili negli angoli ciechi che oggi non consentono la visuale. È uno di quei temi in cui non si può parlare di incidenti stradali perché sono sconti stradali che si possono prevenire nel momento in cui si decide a livello normativo di intervenire. Non lo so voi. Perché io mi muovo perfetto. Però Fasquale sempre. Mi scusi. Scusate, l'audio arriva molto frammentato, non ho quasi capito le parole. Mi dispiace, non so se posso provare io a connettermi di nuovo. Proviamo a cambiare il microfono, avvicinare un attimo. Fasquale, tu senti? Anche lui? No. Mi avvalgo dei potenti mezzi della maggioranza nella speranza che questo microfono possa funzionare meglio dell'altro. Funziona adesso? Funziona meglio? È possibile sentirmi? Non va bene. Non va bene, si sente. Vorrei che fosse mio il problema. Io sento tratti, proprio metallico, non sento quasi nulla. Pasquale, tu riesci a sentire bene? Sì. Allora io provo a uscire e rientrare se mi consentite. Potrebbe essere un problema dell'ufficio. in linea. Grazie, grazie, Presidente. Cercherò di essere sintetico, visto che c'è... Caso sintetico. Ok, caso coltivato, va bene. Forse è una scelta? Lo scopriremo. Io penso di averlo chiamato. Grazie. Proviamo, prego, collega Caso. Grazie. Grazie, adesso sento meglio. Adesso sento. Grazie. Assolutamente. Allora, nel rinnovare, diciamo, la richiesta insieme alle colleghe e ai colleghi anche delle altre forze politiche che mi hanno preceduto di poter ottenere anche puntualmente quelli che sono poi dei contributi circa possibili modifiche dal vostro punto di vista delle questioni che sono state affrontate. E associandomi alla necessità che ci sia un maggiore coinvolgimento attraverso un rafforzamento dell'osservatorio, degli strumenti previsti di coinvolgimento di quelle realtà che dà un'esperienza anche tragica di natura personale, poi mettono in campo proposte di miglioramento per la collettività, io volevo rivolgere una richiesta di contributo abbastanza specifico su un tema che in questo momento sta guadagnando le prime pagine della cronaca per via di un'iniziativa intrapresa dall'amministrazione del Comune di Milano, ma che in realtà riguarda tutti i comuni italiani e riguarda tutti noi come persone che attraversano le strade e vivono le strade. Ed è il tema degli angoli ciechi alla guida che ci sono in tutti i mezzi, in particolare nei mezzi pesanti e nei mezzi di trasporto più grandi. Ora da questo punto di vista la direttiva europea indica che tutti i nuovi mezzi dovranno dai metà del 2024 essere dotati di un sistema di segnalazione. I sistemi di segnalazione ce ne sono di diversi tipi, ma hanno due funzioni. Da un lato quella di segnalare al guidatore la presenza di persone fragili, quindi di persone nelle posizioni in cui lui non può vedere e questa segnalazione può essere acustica, può essere tattile, ci sono diversi dispositivi che lo fanno. Altro canto di segnalare alla persona fragile che in quel punto non può essere vista e quindi c'è una possibilità di inserire un messaggio sui mezzi. Stiamo parlando, secondo le stime di alcune associazioni delle vittime, di 200 morti l'anno che possono essere evitati attraverso l'implementazione di questa tecnologia, che è talmente indispensabile che l'Europa la renderà obbligatoria da metà del 2024. Ora, qual è la questione? Lo stesso direttivo europeo però imporrà con un'età media dei mezzi, che è per la metà dei mezzi di circa 15 anni, per essere completamente implementata e portare su tutte le nostre strade questi nuovi mezzi ci vorranno decenni. E i morti ci sono ogni giorno. A Milano abbiamo avuto 5 morti ciclisti per questa ragione solo dall'inizio dell'anno, ma stiamo parlando veramente di numeri, bisognerebbe fermare questa strage. Per farlo noi abbiamo presentato una proposta. Nella nostra proposta chiediamo che si faccia questo e che venga collegata questa azione, perché l'altro corno del tema è come realizzarla, a un coinvolgimento che non scarichi tutti i costi e gli oneri solo sulle imprese dell'autotrasporto e i lavoratori che in questo momento hanno anche grandi difficoltà perché c'è l'aumento del costo del carburante, le problematiche legate ai tempi d'attesa, un aumento generale delle materie prime in tutti i costi che si riverbera anche l'autotrasporto. Quindi si può assurdiare o attraverso un fondo apposito o attraverso un sistema fiscale di sconto in fattura, possono essere molteplici le soluzioni di fare sì che questo che è un investimento per la sicurezza stradale, che ricordiamolo sempre, la sicurezza stradale è un risparmio perché noi abbiamo connessi agli scontri stradali 18 miliardi di euro di costo sociale di cui ci facciamo carico ogni anno, quindi se bastano poche centinaia di euro di interventi per salvare 200 vite ogni anno stiamo facendo fare un risparmio al nostro Paese. Ora, da questo punto di vista nella proposta di legge che noi abbiamo depositato, correlato al codice della strada e che presenteremo anche come emendamento, noi non indichiamo che deve esserci un dispositivo nazionale perché la soluzione, per esempio avanzata a Milano, c'è stato il ricorso che ha perso Milano, va nella direzione di un sindaco che cosa fa? Cerca di fermare mettendo in campo, però non ci può essere per Milano, per Torino, per Roma, per Napoli, ognuno che decide di presente, ci deve essere un'unica strumentazione per la nazionale e noi chiediamo che questa strumentazione venga, non l'abbiamo indicata nella proposta di legge perché se l'avessimo fatto uno avrebbe potuto dire vogliono fare quel tipo di dispositivo, venga fatta con un decreto del governo, del ministro competente, proprio in un'ottica di collaborazione istituzionale. Noi poniamo veramente il tema, poi si risolva nella maniera più condivisa possibile, però noi dobbiamo mettere un punto che questa segnalazione non sia un onere che noi recipiamo dall'Europa a partire da metà del 2024, debba essere un impegno per la vita delle persone che prendiamo dal giorno in cui votiamo il nuovo codice della strada. Ora, la mia domanda è un po' tecnica e dal punto di vista, è chiaro che noi speriamo che un percorso anche emendativo, ci sono stati altri emendamenti, i nostri emendamenti, ci saranno altre iniziative, possa vedere non una divisione ma un'unione nel sancire questo principio. È chiaro però poi che fatto questo principio ci dovranno essere tutti un percorso attuativo di questo principio e anche l'identificazione di queste tecnologie, l'identificazione di queste procedure. La mia domanda è, è stata avviata una riflessione su questo tema? È già stata identificata quella che potrebbe essere una soluzione tecnologica immediatamente disponibile? e c'è la possibilità nel momento in cui noi intervenissimo con un'azione emendativa o con l'approvazione della nostra proposta o con l'approvazione dell'altra proposta comunque trovassimo un modo per dare un segnale forte al legislatore in questo senso di fare sì che questa strage quotidiana sulle strade venga arrestata il prima possibile. Da questo punto di vista noi possiamo mettere un pezzo di lavoro, che è quello politico, anche di aprire una fase di discussione nuova che non contrapponga gli utenti fragili contro le imprese, contro i lavoratori, i sindaci, contro il governo, cioè che mette insieme tutti perché tutti insieme dobbiamo impedire questa cosa e veramente ci consentirebbe di evitare scontri evitabili e al tempo stesso però vorrei sapere da un punto di vista tecnico se una riflessione esiste e se c'è la possibilità, se si crea questa condivisione, di procedere in tempi rapidissimi. Grazie. Benissimo, non ho altre richieste di intervento, quindi ripasso la parola, rifacciamo il giro dall'ingegner Danzi. Mi sentite? Sì. Cerco rapidamente per quanto riguarda espressamente me di dare una risposta. Onorevole Russo, sulla sospensione breve condivido la preoccupazione, non posso che condividere la preoccupazione era in parte nelle cose che già raccontavo autonomamente all'inizio dell'intervento. La tempestività dell'aggiornamento del punteggio è condizio sine qua non perché la misura abbia gli effetti che ci si prefigge. È pur vero che su questo assolvo la struttura che dirigo, nel senso che noi siamo esclusivamente il contenitore che contiene e presenta le informazioni sul punteggio patente, non siamo driver della modifica dei punteggi. Quindi nel momento in cui l'organo accertatore aggiorna il punteggio patente inserendo la decurtazione, pochi millisecondi dopo quella decurtazione è visibile sul database di motorizzazione e qualsiasi altro organo accertatore che intervenisse su quella patente troverebbe il punteggio aggiornato in quel distante. Ma siamo tutti consapevoli, come giustamente l'onorevole Russo ricordava, che nel momento in cui un provvedimento sanzionatorio venga impugnato e quindi sottoposto a un giudizio del giudice di pace normalmente o comunque di giudiziario, è evidente che bisogna che si definisca il provvedimento perché diventi definitivo e perché a quel punto l'organo accertatore che ne ha informazione intervenga sull'archivio dei punteggi patente. Questa è una procedura che da un lato garantisce il cittadino conducente ma dall'altro ovviamente porta con sé una tempistica che forse non è quella che ci piacerebbe per l'attuazione puntuale ed efficace della norma della sospensione breve che evidentemente pagherà il fatto che il punteggio patente è una fotografia che nel tempo si modifica e questo tempo di modifica della fotografia può essere anche legato a violazioni del codice della strada che precedono il momento della foto. Quindi di questo siamo consapevoli, capisco la preoccupazione dell'onorevole russo ma non posso che condividerla, ritengo che però una moral suation rispetto all'organo accertatore affinché nel momento in cui il procedimento si è effettivamente definito non induge sia tempestivo nella modifica del punteggio patente sull'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è sicuramente una cosa che può produrre degli effetti. Passo all'onorevole Maccanti. Confermo che i tempi di attesa sono stabili o in leggera diminuzione. Essi attestano oggi sotto il mese per la revisione degli autobus, quindi il trasporto persone. Sotto i due mesi parlo di media nazionale pesata, quindi quella che effettivamente come grande numero riguarda l'interesse collettivo generalizzato. Quelli delle revisioni sono stabilmente sotto i due mesi con delle situazioni migliori per il nord-est del paese, dove siamo appena sopra il mese di tempo di attesa, e situazioni meno brillanti per il centro, dove invece siamo spesso sopra i due mesi di attesa per la revisione dei pesanti merci. Stiamo cercando di fare un passo in più, perché ci siamo resi conto che esiste un fenomeno che nelle statistiche che produciamo mensilmente non abbiamo considerato, che è il fatto che alcuni conducenti, alcuni proprietari di veicoli non sottopongono deliberatamente il veicolo a revisione e quindi non chiedono una prenotazione di revisione, o la chiedono a revisione scaduta e quindi non hanno il permesso di circolare fino al giorno della revisione, ma hanno il permesso di circolare soltanto il giorno della revisione per recarsi a sottoporre il veicolo all'operazione tecnica. Evidente che dal punto di vista correttissimo che segnalava l'onorevole Maccanti, ovvero del potenziale bonus per la sicurezza stradale legato al fatto che dei veicoli non controllati oltre il termine circoli no, il problema si realizza solo nel momento in cui la prenotazione avvenga prima della scadenza della revisione e per il tempo oltre la scadenza della revisione per fare l'accertamento tecnico, non per coloro che invece prenotano a revisione scaduta e quindi non circolano e quindi non creano pericolo, creano un pericolo sicuramente alle proprie finanze e al proprio business, ma sicuramente non alla circolazione stradale. Quindi stiamo facendo uno zoom per capire qual è effettivamente il peso complessivo per la sicurezza stradale di questo oggi non eccessivo se non in alcuni punti specifici del territorio ritardo sulle revisioni delle patenti, d'altronde revisioni dei veicoli. D'altronde sia per revisioni che per patenti non c'è stato un break strutturale, nel senso che il personale in servizio è esattamente quello che ci siamo raccontati nella mia ultima audizione in nona commissione e i meccanismi e gli oneri sul personale di motorizzazione non si sono ridotti. L'unico break strutturale che sta avendo un minimo di effetto è quello legato al fatto che non si può avere il rimborso di una revisione prenotata e non onorata con la presenza del veicolo, quindi delle assenze, non si può avere il rimborso, non si può avere una nuova prenotazione con deroga per la circolazione fino alla data. Questa cosa sta facendo calare il tasso di assenza sulle revisioni, sulle sedute di revisioni, quindi le sedute di revisioni sono più piene e quindi il miglioramento dei tempi di attesa sulle revisioni è anche prodotto da questo break strutturale, se vogliamo, indotto da questo mio provvedimento di qualche mese fa. Raccolgo questo poi al fattore comune fra gli intervenuti l'invito a, che francamente non stavamo considerando, di avanzare delle proposte emendative che vadano nella risoluzione di vari problemi che sono oggi presenti nel settore. Insomma, quindi faremo la riflessione con il nostro ufficio legislativo per capire se esiste la volontà, oltre che tecnica, ma anche perché noi depositiamo frequentemente delle possibili misure ai nostri legislativi, ma soprattutto politica, di portare avanti delle misure ulteriori rispetto a quelle già messe in campo nel disegno di legge. Arrivo infine alla richiesta, all'istanza correttissima dell'onorevole Casu in ordine al tema degli angoli ciechi. Verissimo anche il fatto che tutti i veicoli commercializzati dopo il 7 luglio del 2024 dovranno essere dotati del dispositivo di angolo cieco che, come correttamente diceva l'onorevole Casu, ha sia una parte semplice, esterna, che rappresenta all'utente, debole o non debole della strada, il fatto che in quel punto non è visibile al conducente. L'altro, più sofisticato, delicato e importante, è quello di avvertire invece il conducente del fatto che in quel punto dove lui non ha visibilità è presente un ciclista, un pedone, un utente, un utente della strada. È evidente che i veicoli saranno commercializzati a partire da luglio, sono già stati omologati nei mesi precedenti, ma il time to market perché l'intero circolante possa avere questo dispositivo è talmente lungo da rendere praticamente la cosa utile per i nostri figli se li abbiamo, o forse i nipoti. Non è una risposta immediata. Nell'immediato invece dobbiamo porci il problema dell'installazione aftermarket sul circolante. L'installazione aftermarket sul circolante è regolato, anch'esso da norma comunitaria, ha bisogno di una regola tecnica, già ne parlavamo per la colloc, quindi per mettere sul circolante delle cose che non sono sul veicolo omologato, è necessario una regola che stabilisce il come, che va notificata a Bruxelles e che poi deve diventare l'oggetto tecnico, la base tecnica perché tutti, poi con un finanziamento in parte pubblico o con fondi interamente privati, perché poi i proprietari di questi veicoli possano effettivamente da un lato rispondere ad eventuali obblighi dei comuni per l'accesso alle ZTL, dall'altra parte anche proattivamente dotare i veicoli di questo dispositivo che con l'installazione secondo regola tecnica è un dispositivo perfettamente legittimo, quindi il percorso è questo. Un emendamento in questa direzione che desse una spinta politica all'attività tecnica che segue evidentemente potrebbe essere utile nella direzione definita dall'olorevole. Grazie mille ingegnere. Passiamo all'ingegnere Pessanto. Sì, allora riguardo quello che ha segnalato, insomma compatibilmente a quello che sono riuscito a sentire purtroppo, noi forse bisogna chiarire una cosa, l'osservatorio è un insieme di dati nei quali confluiranno i possibili dati Istat o dati delle polizie, dei fenomeni per i quali dal quale poter estrarre alcune considerazioni sulla tipicità e sui fenomeni sulle strade. Per quanto riguarda quello che diceva propriamente delle associazioni, sarebbe una cosa già prevista e inseno però al comitato di cui ho fornito prima informazione, il CICAS. Il CICAS è proprio questo tavolo di coordinamento nel quale ci sono tutte le istituzioni pubbliche che concorrono alla nostra attività sicurezza stradale, ma nello stesso CICAS è possibile e sarà certamente fatto di ascoltare tutte le richieste delle associazioni stakeholder in generale sul fenomeno. Quindi è il CICAS che è un tavolo di coordinamento che sentirà le problematiche e con lo strumento osservatorio noi potremo andare a verificare quali sono i fenomeni che sono evidenziati dalle stesse associazioni. Insomma, però è chiaro che è un fenomeno che il primo tavolo lo stiamo per fare. Poi bisognerà approfondire, potremo sentire associazioni, esperti del settore, tutte le associazioni interessate che voi conoscete della strada, dai ciclisti ai motociclisti o vari, ma è quello il tavolo nel quale noi sentiremo tutte le esigenze. Mentre l'osservatorio è uno strumento tecnico, numeri, dati, acquisiti, per dare a noi la possibilità di mirare quali sono le priorità di intervento o le politiche di intervento. Questo volevo chiarire. Grazie. Grazie mille. Io ringrazio sentitamente i nostri ospiti per il loro contributo e dichiaro conclusa l'audizione. Buon lavoro. Grazie, grazie mille e a presto. Grazie a tutti quanti. Grazie Presidente. Salve.